Ma cosa dobbiamo aspettarci da Mare Fuori 5? Rosa e Carmine torneranno? Circolano già delle teorie, ma attenzione! Potrebbe esserci qualche spoiler! Nella quarta stagione abbiamo visto l'uscita di scena di Crazy Jay e Kubra. Rosa e Carmine non si sono sposati, questo perché la ragazza non ha voluto rinunciare alla sua vita e nel programma di protezione dei testimoni è entrato soltanto Carmine. Questo potrebbe quindi indicare che non vedremo più Carmine all'interno della serie. Nella quinta stagione è quindi probabile che vedremo soltanto Rosa, visto che è rimasta a Napoli. La ragazza potrebbe quindi sia rimanere latitante, sia tornare nell'IPM. Sarà quindi molto difficile vedere di nuovo Rosa e Carmine insieme, questo perché il ragazzo vorrebbe abbandonare tutto, e quindi anche Futura, per poter poi tornare a Napoli. La loro storyline sembra quindi ormai arrivata al capolinea. E voi? Cosa ne pensate? Tra le azioni di Webbo è tutto e noi ci vediamo al prossimo video!